Ciao a tutti e benvenuti nella terza parte di questa rubrica Basic Trials in cui vi racconto come sta andando il processo dell'anno, del millennio ovvero John Depp vs Amber Heard Siamo alla terza parte, vi lascio le altre due giù nell'info box nel caso ve le fosse perse perché diciamo che è un po' come una serie tv a puntate quindi se vi siete persi quelli precedenti non capirete molte delle cose di cui parlerò voglio subito mettere le mani avanti dicendo che in questo video parleremo di violenza sessuale e violenza domestica quindi se questi sono argomenti che in qualche modo vi triggerano o vi mettono a visaggio vi chiedo di non guardare questo video anche perché dovrò essere piuttosto grafica e se riesco, se in youtube non mi censura e non mi manda il copyright strike metterò anche delle immagini quindi mi raccomando pensate prima a voi stessi e voi stesse se è una cosa che vi dà fastidio non guardate questo video come nello scorso video abbrevierò questi due tipi di violenza con vs e vd in questo modo appunto di nuovo non devo neanche censurare ogni singola parola in questo video affrontiamo la versione di Amber perché come vi ho già spiegato è finita la parte delle testimonianze di Johnny Depp e dei suoi testimoni e adesso è iniziata la controparte quindi la difesa di Amber Heard in questo momento il processo in pausa e ho scoperto perché praticamente il giudice a Scurati ha una conferenza, aveva una conferenza e praticamente non poteva proprio non andare c'era tipo un obbligo e quindi hanno dovuto sospendere e ricomincerà il 16 maggio tra l'altro mentre racconto tutto questo andrò a truccarmi oggi ho deciso di partire direttamente dalla skin care visto che tanto ne abbiamo di tempo da passare insieme quindi io inizio pure e vi scrivo tutto giù nell'info box così non ci perdiamo niente come dicevo è iniziata la difesa di Amber Heard e in prima battuta c'è la direct examination come vi ho spiegato quindi i suoi avvocati la stanno portando a raccontare tutto facendo domande aperte in modo che lei possa raccontare tutta la propria versione dei fatti quando finirà la direct examination inizierà la cross examination che è il controesame, qualche legale mi ha scritto dicendomi come si diceva il controesame in cui gli avvocati di Johnny invece la interrogeranno è giusto che lei abbia la possibilità di dire la propria versione, di raccontare la propria versione io devo dire che sto trovando un po' difficile affrontare questo video perché ovviamente quando si parla di questi temi si è portati a credere alla vittima cioè è giusto, non c'è neanche bisogno di dimostrare di aver subito OVD o OVS anche perché questo porta molte donne a non denunciare perché magari non hanno sufficienti prove per dimostrare quello che dicono però stando alle parole di Amber e adesso entreremo nei dettagli di tutto quello che lei ha raccontato viene difficile credere che non ci siano sufficienti prove tra l'altro sul sito del comune di Fairfax County in Virginia che è dove si sta tenendo il processo è possibile accedere a tutte le prove che stanno venendo presentate durante il processo durante i giornati di processo cioè da un lato non mi sembra così strano praticamente se uno va sul sito trova proprio tipo high profile cases high profile trials quindi processi di alto profilo e proprio lì c'è la cartella Johnny Depp vs Amber Heard e tu ci clicchi sopra e ci sono tutte le prove tutti gli audio e video, le foto eccetera quindi sono facilmente accessibili da tutti e io voglio limitarmi a parlare di ciò che lei ha detto e delle prove che sono state presentate perché questo è quello che la giuria ha in mano voglio evitare di soffermarmi sulle cose uscite fuori tipo su TikTok o su... insomma ci sono veramente video che riportano magari lei che si sofferma soffersi in naso aspettando che le scatti in una foto oppure chi sospetta che abbia fatto uso di polverine magiche durante la sua testimonianza io sinceramente non penso che sia vero perché mi sembrerebbe totalmente assurdo che una persona possa introdurre della droga in un tribunale in America dove ci sono poliziotti insomma mi sembrerebbe veramente una cosa da pazzi quindi non penso che l'abbia fatto comunque ci sono persone che esperti di linguaggio del corpo di microespressione eccetera praticamente quindi sul web la costante è lei ha recitato tutto il tempo io cerco in questo video di riportarvi ciò che lei ha detto e le prove a supporto e poi decidete voi se pensate che abbia mentito o non abbia mentito alla fine vi darò la mia opinione ci tengo a dire che la sua la sua testimonianza è stata ricca di dettagli molto drammatica molto intensa comunque ha pianto per quasi tutto il tempo della testimonianza voglio però fare tre premesse ben tre prima di iniziare a raccontarvi la sua versione uno io ho affrontato questa sua testimonianza sempre con in testa gli audio e i video le prove fornite da Johnny e dal suo team quello in cui gli dice che nessuno gli avrebbe creduto se avesse detto che lui era vittima di DVD oppure dove lei ammette di averlo colpito e questi sono tutti audio che potete trovare appunto a parte su TikTok ma tra le prove sul sito che vi ho menzionato prima un'altra cosa che ho tenuto a mente tutto il tempo sono la trentina di testimonianze oculari di persone che hanno testimoniato dicendo che non hanno mai visto segni di violenza su Amber cosa che ribadisco dai suoi racconti sembra assurdo cioè veramente sembra assurdo e per quanto alcune persone siano magari la security di Johnny Depp che lui paga ovviamente o persone sul suo libro paga per cui uno possa dire però vengono pagati da lui quindi devono essere per forza dalla sua parte e difenderlo però altri testimoni che sono stati portati come per esempio i poliziotti che sono intervenuti a maggio del 2021 loro non sono sul suo libro paga cioè sono poliziotti dello Stato quindi non lo so io sono propensa a credere che molte delle testimonianze riportate fossero vere infine una cosa che ho tenuto a mente e che vorrei farvi vedere è la differenza della attitudine di Amber tra la testimonianza nel 2016 e la testimonianza adesso del 2022 perché secondo me comunque la sua testimonianza nel 2016 è più elegibile di più di come lei fosse in quel momento di come lei fosse nel 2016 sono passati sei anni e ovviamente adesso sembra molto diversa quindi questa è un'altra cosa che ho ottenuto a mente e che vi voglio appunto far vedere un momento the exact same thing that I just told you that no domestic violence ever occurred and my ex has stated such in fact not to answer I answered you I never I don't know anything about this it's heard still I'm really sorry about hitting me with the door or hitting your head I did not mean to nor you don't mean to hit me in the head with the door but you meant to ma cominciamo con la testimonianza della scorsa settimana parte dicendo ah ecco c'è stato questo momento un po' a mio parere un po' esilarante perché quando hanno fatto la mozione per archiviare il caso che tra l'altro ci tengo a precisare che in realtà è una cosa standard è una cosa comune nei processi quando la difesa prova a far archiviare il caso non è stata una mossa perché pensavano di perdere è una cosa normale a quanto pare ho visto da diversi legali americani che hanno sottolineato questa cosa comunque nella mozione le ragioni in favore dell'archiviazione erano che in realtà lei sostiene di non aver scritto questo articolo diffamatorio che è la ragione per cui sono in causa lei sostiene che sia stata in realtà una cosa scritta dal Washington Post e dalla ACLU e lei ci abbia solo messo il suo nome quando il suo legale le chiede perché è qua lei risponde sono qua perché mio marito mi ha fatto causa per un articolo che ho scritto e quindi io dico quindi l'hai scritto? cioè nel senso hai già risposto alla domanda l'hai scritto tu? sì cioè l'ha testimoniato comunque inizia a parlare della sua infanzia ma devo dire non si sono soffermati più di tanto su questo argomento e mi ha perso un po' strano perché comunque lei ha raccontato più volte di aver subito BD e VS e non si sono soffermati su questi episodi minimamente sono subito entrati nel merito della relazione con Johnny e quindi parla innanzitutto di come si sono conosciuti come vi avevo accennato si sono conosciuti sul set di The Brown Diary che è un film che hanno fatti insieme e fin da subito ci dipinge questo quadro lei ragazza ingenua e giovanissima di un paesino del Texas va a Los Angeles e dopo qualche provino e qualche film così un po' qualche parte secondaria riesce a conoscere Johnny Depp appunto sul set anzi facendo i provini per questo film e fin da subito ci descrive quest'uomo così viscido che io mi chiedo perché si è arrivato a sposarlo perché adesso vi spiego praticamente ci racconta di una relazione squilibrata fin da subito lui superstar internazionale conscio del proprio potere che usa tutti i mezzi che ha per corteggiarla facendola anche sentire a disagio per esempio racconta di una volta che lei è andata nella sua roulotte sul set sapete che gli attori hanno i camerini di solito in delle roulotte dei camper insomma e lei era andata a portargli una bottiglia di vino in accappatoio e lui tipo ci ha provato le ha sollevato il dietro dell'accappatoio con un piede e poi con il peso del suo corpo l'ha distesa sul suo divano e gli ha detto una roba tipo yum cioè io una cosa del genere cioè anche se sei Johnny Depp ma se io sono interessata c'è una cosa cringe da morire una cosa creepy una cosa da cioè è già una molestia quindi ci mette di fronte al fatto che lui praticamente l'abbia molestata fin da subito insomma ci descrive questi suoi tentativi di approccio veramente squallidi come invitarla nella sua camera d'albergo dicendo che c'era il c'era anche il regista insomma bere un bicchiere di vino con il regista poi quando lei arriva il regista non c'è però qua ci dice io però sono rimasta quindi insomma lui uomo di potere abituato ad avere tutto ciò che vuole generoso sì ma in maniera controllante che quindi usa la propria generosità per controllare le persone intorno a lui lei compresa e lei invece giovane donna inesperta e innocente ingenua ricordiamoci che quando si sono conosciuti lui era insomma stava ancora con Vanessa Paradis e lei stava con Tasha Vanry che era la sua fidanzata perché lei come abbiamo già detto è bisessuale e questo ve lo sottolineo per delle cose che vi devo poi dire dopo quindi in realtà non succede niente secondo lei fino al momento in cui devono promuovere questo film nel 2011 fine 2011 inizio 2012 ed è proprio durante questo tour di promozione del film che si innamorano perdutamente cioè da che lui era un uomo viscido e che ci provava spudoratamente con una ragazzina che aveva la metà dei suoi anni invece si innamorano perdutamente lui è l'uomo della sua vita passa veramente penso una settimana e poi iniziano le violenze prima verbali e poi fisiche infatti ci dice che lui è un uomo molto geloso ma estremamente al limite della follia e quindi inizia a commentare tutti i suoi outfit per esempio dicendole ah è quello che hai deciso di indossare quindi facendola sentire in colpa a disagio e in generale quindi portandola a rivedere un pochino il suo modo di vestire il suo modo di fare anche per esempio i film da accettare diciamo che lui aveva da ridire su tutto a questo punto l'avvocato le chiede se si ricorda la prima volta che lui l'ha picchiata e lei ovviamente risponde si la ricordo perfettamente e ci racconta questo episodio appunto del 2012 attenzione cioè quindi le violenze iniziano fin da subito racconta di questa sera in cui sono sul divano non so se sono leggendo poesie lui sta suonando la chitarra forse sapete che lui è stato con Winona Ryder e praticamente quando stavano insieme si era tatuato Winona Forever sul braccio un tatuaggio famosissimo il suo tatuaggio più famoso e anche più visibile quando si sono lasciati l'ha cambiato in Wine or Forever al che lei gli chiede un po' ridendo tipo ma che tatuaggio è che cos'è e lui glielo spiega e lei ride non fa in tempo a finire la risata che lui le tira uno schiaffo fortissimo mano aperta in faccia questo è solo il primo schiaffo di tre lei si ricorda di essere finita sul pavimento di quanto il tappeto fosse sporco non si fosse resa conto di quanto fosse sporco racconta i minimi dettagli questo tappeto diciamo che però ci tiene a dirci che lei non ha sentito male mi chiedo tre schiaffi a mano aperta come faccio a non farti male però ok e lei quindi prende e se ne va quindi questo primo episodio di violenza di Johnny passiamo invece alla prima prova che ci viene presentata lei parla di questo episodio in cui lui l'avrebbe rincorsa per casa buttata a terra picchiata in piena faccia con pugni chiusi ricordiamoci che Johnny Depp indossa sempre degli anelli enormi quindi si avventa su di lei e quindi ci dicono ah c'è una foto di questo episodio che lei avrebbe mandato a sua madre per farle vedere come stava in questa foto lei ha un livido sul braccio in questa foto si vede anche la sua faccia io penso come tutti in aula e tutte le persone che stavano assistendo nel processo sono rimasta un po' tipo ma come fa ad avere un livido cioè nel senso il livido sul braccio non corrisponde alla sua descrizione dell'accaduto ah tra l'altro ci fanno vedere solo la foto inviata alla madre non ci fanno vedere se ci fosse cioè che cosa abbia risposto la madre non ci fanno vedere cosa lei avesse scritto prima di questa foto cioè ci viene solo fatto vedere totalmente fuori contesto proseguendo con il suo racconto ci dice che appunto ci sottolinea quanto lui fosse una persona gelosa e racconta di due episodi in cui lui avrebbe diciamo fatto del male a delle persone perché pensava ci stessero provando con lei entrambe due donne quindi una volta un'amica ha una fessa e un'altra volta una hostess che era su un volo su cui erano anche loro e che aveva fatto uso di sostanze insieme a loro e che quindi poi e poi insomma sembrava che ci stesse provando lui l'aveva tipo afferrata dal polso stringendoglielo fortissimo dicendo tipo lei è la mia donna diciamo che se tu descrivi un episodio di questo tipo che coinvolge altre persone sarebbe utile avere appunto questi testimoni oculari a corroborare la sua la sua testimonianza e non so se saranno verranno sentiti in aula non ho idea passiamo a come le ha chiesto di sposarlo perché io ho trovato particolarmente eloquente cioè nel senso io non so se sia andata davvero così però come lei l'ha descritta è l'ennesimo modo per dire lui è una persona controllante e che ottiene ciò che vuole no matter what quindi lui va e si prende ciò che è suo perché praticamente quando le chiede di sposarlo non le dice tipo vuoi sposarmi con l'anello così che non deve essere così la proposta di matrimonio per forza non siamo in una favola anzi siamo in un incubo a quanto mi sembra di capire lui senza un anello le dice tipo forse sono in un albergo insieme adesso non ricordo in preciso la scena comunque lui le dice be my girl be my wife cioè quasi c'è un imperativo diventa cioè si la mia donna si mia moglie diventa mia moglie cioè quindi non le fa una domanda ma le impone di sposarlo vabbè comunque i due come sappiamo poi si sono sposati quindi so una cosa che mi ero dimenticata di dirvi dalla testimonianza della dottoressa Hughes che è stata la la psicologa forense assunta dal team di Amber e che lei gli ha regalato un coltello enorme con scritto a sala muerte sulla lama ora quello che penso penso di poter esprimere questa opinione senza venire accusata di essere di parte però se una persona ha paura per la propria vita e sta con una persona violenta mi viene da chiedermi perché regalargli un coltello cioè un coltello enorme non lo so questa cosa non perché cioè lei ha risposto a questa cosa dicendo a lui piacevano i coltelli grazie penso gli piacessero anche altre cose potrei regalargli qualsiasi altra cosa diciamo che un coltello non ti mette proprio a tuo agio se lui come dici è una persona così violenta e che praticamente ha questi episodi in cui impazzisce completamente e ti massacra di lotte però andiamo avanti un'altra cosa che mi ha fatto un po' specie è quando parla del contratto prematrimoniale sostenendo che lo volesse lei e non lui il contratto prematrimoniale è quel contratto che garantisce i termini economici del matrimonio e quindi anche in vista magari di un divorzio sancisce già prima gli obblighi di uno e dell'altro quanto uno deve all'altro e di solito si fa soprattutto se magari una delle due parti è molto ricca come per esempio Johnny e quindi debba venga sicuramente tra l'altro avvisato dai propri legali dai propri consulenti di comunque mettere le mani avanti mettere al sicuro i propri soldi ecco quindi fa un po' strano che lei avesse lei volesse assolutamente a tutti i costi questo prenup questo contratto prematrimoniale e lui la sua risposta è stata l'unico modo fuori da questo matrimonio sarà la morte che io dico comunque lui ha un'isola oltre a possedere non so quante case in tutta Los Angeles e nel mondo mi sembra un po' sprovveduto e non penso che più che altro anche i suoi consulenti siano degli sprovveduti comunque l'accusa di voler già uscire dal matrimonio prima ancora di essersi sposati questo per sottolinearci un po' appunto il suo il suo modo di essere controllante nei suoi confronti parla anche del suo rapporto con i figli di Johnny Depp dicendo che lei era quella che se ne prendeva cura quando lui non era in grado perché era troppo ubriaco era aveva fatto uso di sostanze e alcol allora c'è da dire che su queste parole in particolare la faccia di Johnny era un misto tra la risata nervosa e il non ti permettere di parlare dei miei figli e di dire che te ne occupavi tu però questo è quello che ci dice lei appunto che lui non fosse in grado di prendersene cure che i suoi figli avessero paura di lui fossero spaventati per lui e che quindi una volta che erano sull'isola appunto di lui alle Bahamas lei se ne sia andata portandosi via Lily Rose perché lui era pericoloso passiamo adesso a un episodio che di cui abbiamo già sentito parlare da diversi testimoni da parte di Johnny ovvero quello che è accaduto nel volo di ritorno da Boston in cui lei sostiene che apparentemente lei aveva appena finito di girare un film con James Franco diciamo che si dice fosse il suo amante ma lui non si è ancora sentito e forse dovrebbe testimoniare in tribunale comunque in cui Johnny la accusa appunto di di averlo tradito con James Franco continua appunto ad accusarla a urlarle addosso e quando lei si stufa di farsi urlare addosso si alza e lui le va dietro e le tira un calcio con lo stivale sulla schiena buttando la terra tutto questo davanti a un sacco di persone e appunto lei dice anche in quel caso dice non mi ha fatto male mi ha fatto male l'umiliazione del fatto che fosse successo davanti ad altre persone queste altre persone hanno già testimoniato quindi praticamente lei ci sta dicendo questa cioè questa è la verità quindi quello che vi hanno raccontato prima è una bugia di nuovo quindi è un he said she said non ci sono prove né da una parte né dall'altra non c'erano telecamere su questo aereo nessuno stava filmando la scena ci viene però presentato poi un audio in cui lei dice per farci sentire come era ridotto Johnny perché aveva fatto uso di sostanze di alcol e da quest'audio non so io forse mi aspettavo lui che le urla addosso lui che non lo so è violento ha parole non lo so oppure che si avvicina a lei in quest'audio si sente Johnny produrre un suono un po' animalesco cioè sicuramente non stava bene però si sente non lo so mi sembra la voce di un uomo che sta male arriviamo a un'altra accusa gravissima non che quelle prima non lo fossero assolutamente sono gravissime sono già gravi le violenze psicologiche le violenze verbali le violenze non per forza fisiche però qua arriviamo alla BS praticamente racconta di una volta in cui lui fosse alla ricerca della sua polverina magica di cui voleva fare uso e si è convinto che lei l'avesse nascossa internamente nelle sue parti intime quindi la butta sul letto le strappa tutti i vestiti le mutande e inizia a perquisirla internamente ovviamente provocandole dolore oltretutto questa polverina magica ovviamente non c'era torniamo invece in Australia l'incidente in Australia in cui Johnny ha perso il dito ve lo ricordate lui ha detto che hanno iniziato una litigata furibonda lei ha lanciato delle bottiglie di vetro finché una non si è spaccata tagliandogli un pezzo di falange del dito medio destro al che lui ha sfasciato casa ha scritto sui muri ha imbrattato un quadro e uno specchio per poi chiamare il suo medico la sua infermiera che si era portato dietro in Australia lui aveva il dottor Kipper e due infermiere una assegnata ad Amber una assegnata a lui che si portava ovunque erano parte del suo programma per come dire diventare sobrio per non smettere di fare uso di sostanze diciamo che al posto di fare un rehab in una struttura lui si era portato dietro i medici ovviamente lui in quel caso aveva fatto uso di sostanze aveva bevuto ed è stato proprio in realtà questa la ragione per cui hanno litigato perché lui era ubriaco e quindi lei gli avrebbe tirato queste bottiglie spaccandogli il dito questa è la versione di Johnny ricordiamoci che i testimoni di Johnny hanno detto compresi anche i medici l'infermiera Ben King che era il manager della casa che poi ha riaccompagnato Amber fino a Los Angeles dall'Australia a Los Angeles tutti hanno testimoniato che lei non aveva lividi non aveva segni non aveva niente sembra paradossale però vista la versione di lei essenzialmente lei racconta che appunto stavano litigando lui l'ha presa e lanciata su un tavolo da ping pong che si è rotto ha spaccato diverse bottiglie che quindi frantumandosi al suolo il pavimento si è coperto di pezzi di vetro sui quali lei ha camminato e scivolata e quindi si è tagliata tutti i piedi poi lui le ha preso la tessa mi spiace è molto grafico me ne rendo conto però sto cercando di riportarvi la sua versione le ha preso la tessa e gliel'ha sbattuta ripetutamente contro il muro contro il bancone del bar e poi l'ha distesa sul bancone e con una bottiglia rotta cioè con una bottiglia lei non sa se fosse rotta o meno la insomma lei ha subito VS da parte sua non si ricorda come sia sfuggita a questa cosa si ricorda solo che ha preso due passiglie di sonnifero e si è addormentata finisco di raccontarvi tutto e poi vi dico un attimo la mia su questo episodio ah ecco ci vengono presentate delle prove le prove sono le foto del pavimento ricoperto di vetri e del tavolo da ping pong rotto e dei quadri imbrattati eccetera in realtà sono praticamente le stesse foto che abbiamo già visto di Ben King che era appunto l'house manager della casa dell'Australia e che quindi più o meno avevamo già visto avevamo già visto la condizione in cui era la casa assolutamente devastata e appunto ce ne sono parecchie di foto della casa non ci sono foto di Amber non ci sono foto dei suoi piedi distrutti e tagliati non ci sono foto della sua faccia tumefatta dopo il massacro perché quello che descrive è un massacro non ci sono cartelle cliniche insomma dopo aver subito quello che ha subito lei e tra l'altro il giorno dopo il medico dottor Kipper e l'infermiera Debbie Lloyd se non sbaglio erano lì e a quanto pare non l'hanno curata hanno cercato di drogarla di darle delle altre pastiglie per dormire alla fine accetta di prenderle e continua a dormire per poi svegliarsi e tornare a casa con Ben King cosa che appunto sappiamo Ben King ha testimoniato che lei non aveva segni da nessuna parte da quello che ci ha detto lei doveva essere coperta di lividi cioè veramente dal modo in cui ha descritto quello che è successo cioè ma anche solo le persone in aeroporto non so cioè avrebbero dovuto vedere qualcosa immagino non lo so io non voglio non voglio fare la parte di quella che dice se non hai prove allora non è successo perché è sbagliatissimo ed è la ragione di nuovo per cui un sacco di donne non denunciano quello che però voglio dire è che perché hai fatto le foto a tutta la casa e non a te stessa per essere cioè per avere quella tranquillità di dire posso dimostrare quello che mi ha fatto perché poi successivamente delle foto di lei ci sono quindi mi chiedo perché in quell'occasione tu non l'hai fatto è difficile fare questo video senza esprimere un giudizio mi rendo conto che sia forse fastidioso per qualcuno però viene davvero da chiederselo un'altra cosa che mi ha fatto strano è proprio questa cosa dell'aver preso lei prima dice a bunch a bunch of pills quindi una manciata di pastiglie dice no non una manciata ne ho preso due e io dico tu sei in casa con una persona che ti ha appena massacrata e hai subito VS poi ovviamente c'è una persona in stato di shock ragionare diversamente semplicemente mi ha fatto strano questa cosa adesso arriviamo a una a un racconto piuttosto interessante che è un po' quello che in questo momento sta generando grandissime grandissime attese sulla cross examination quindi sul controesame perché allora siamo a marzo 2015 siamo poco dopo il loro matrimonio siamo poco dopo l'Australia questo episodio a Los Angeles nella loro casa nel loro attico che è il numero 3 sapete che Johnny possiede 5 attici uno è tutto loro poi nel 4 abita la sorella di Amber Whitney e nel 5 lei ci dice che praticamente l'attico numero 5 suddiviso su diversi livelli era stato destinato un intero piano al suo guardaroba un intero piano al suo ufficio un intero piano alla sua zona pittura quindi lui le aveva dato un attico intero per le sue cose questo per spiegarmi un pochino quindi questi attici sono su diversi piani ci sono delle scale all'interno comunque ci racconta che a marzo 2015 sono nel loro attico lui ha il suo ipad davanti a lui si addormenta di botto proprio così di botto senza senso con l'ipad acceso e quindi così lei vede che stava messaggiando una donna che con cui lui era uscito all'inizio della loro relazione diciamo che prima di diventare esclusivi lui stava frequentando anche questa donna e quindi le dice era pochi giorni dopo il nostro matrimonio visto che a quanto pare si erano visti e io non lo sapevo giustamente quindi lei sbotta e gli urla addosso perché lo accusa di tradirlo mentre lei sostiene di non averlo mai tradito né con Elon Musk né con James Franco al che lui subito si altera e questo è l'episodio che ci è già stato raccontato da Johnny e dal suo bodyguard Travis la dinamica è stata questa iniziano a litigare lui le lancia addosso delle cose al che lei praticamente può accedere dall'ufficio di lui direttamente nella penthouse 4 che è dove vive sua sorella che stava dormendo la va a svegliare piangendo al che Johnny la segue poi prosegue e va nell'attico 5 che è dove c'era il guardaroba di lei e tutte le sue cose e inizia a sfasciarlo questa cosa è vera questa cosa è stata testimoniata anche dal suo bodyguard lui ha usato la parola rearranged quindi ha insomma riposizionato il suo guardaroba in realtà gliel'ha abbastanza sfasciato non è una bella cosa nessuno sta dicendo che sia una bella cosa penso che sia chiaro che non sia una cosa che va bene il fatto che lui l'abbia sfasciato il guardaroba siamo tutti d'accordo su questo a questo punto intervengono anche Travis appunto la bodyguard di Johnny e c'è anche l'infermiera Debbie Lloyd quello che lei ci racconta è che lui le lancia addosso una lattina di Red Bull prova a lanciargli addosso ma colpisce l'infermiera in realtà Travis ci aveva raccontato che era lei ad aver lanciato a lui una bottiglia di Red Bull una lattina di Red Bull e lui non l'aveva fermata infatti non ve ne ho parlato in quel video quindi lo faccio un attimo adesso la versione di Travis è che lui si è intervenuto perché Johnny le ha proprio scritto di venire e di portare anche l'infermiera e lui inizialmente non interviene perché comunque c'è questa litigata tra loro due non vuole come dire non vuole interferire da un lato dall'altro però comunque continua a seguire Johnny in modo da essere pronto a difenderlo ma torniamo alla versione di Amber dice che dopo aver lanciato questa lattina l'ha presa per i capelli ricordiamoci che lui aveva il gesso perché era dopo l'Australia in cui aveva appunto se era fatto male al dito quindi con la mano senza gesso le prende la testa la trascina su pre scale e con l'altra mano la picchia ripetutamente con appunto con il gesso quindi ancora peggio che con gli anelli e a quanto pare né l'infermiera né Travis la bodyguard intervengono nessuno interviene prova a intervenire invece sua sorella Whitney in difesa di Amber ed è a quel punto che lei pensa che Johnny sia per buttare giù sua sorella dalle scale Travis aveva testimoniato che non c'era stato non era successo niente di tutto questo Johnny non stava per buttare giù Whitney dalle scale ma è a questo punto del suo racconto che Amber ha detto una cosa e dalla scarsissima poker face di Benchu illegale di Johnny capiamo che per il team Depp quello che lei ha detto è probabilmente un asso nella manica perché lei dice io in quel momento l'unica cosa a cui sono riuscita a pensare è stato Kate Moss e le scale quindi cosa c'entra Kate Moss in tutto questo entriamo nel merito di questa faccenda e perché il team di Johnny sembra così contento del fatto che lei l'abbia nominata come vi ho spiegato ci sono volte in cui nella propria testimonianza la persona che parla commette l'errore di menzionare qualcosa che non era ammissibile fino a quel momento in aula quindi loro avevano stipulato entrambe le parti avevano stipulato di lasciare fuori dal processo tutte le relazioni precedenti perché questo avrebbe potuto creare un pregiudizio per la giuria cioè come se avessero detto è anno dei precedenti e per questa ragione quindi c'è già una propensione alla violenza quindi per evitare questo pregiudizio avevano lasciato fuori tutte le relazioni precedenti il fatto che lei abbia nominato Kate Moss immagino abbia aperto le porte alla la possibilità di far testimoniare Kate Moss e da quello che allora da quello che sappiamo la loro relazione è anche stata molto tumultuosa ma quello che lei ha sempre detto e quindi e mi sembra di capire che sia vero vista la reazione di Benjoo è che lei in realtà ha detto che Johnny è stato l'uomo con cui si è sentita più al sicuro in tutta la sua vita e che in realtà la loro relazione sia stata una relazione bellissima e non avesse avuto mai episodi di violenza reciproca o comunque di lui verso di lei sappiamo che una volta era capitato che avessero distrutto una camera d'albergo non so se lui non so se lei non so se entrambi ma che quando la polizia era intervenuta loro due erano calmissimi lui aveva scherzato dicendo che era stato un armadillo e praticamente avevano pagato all'albergo i danni ed era morta lì immagino che dentro di sé pensasse di sottolineare la propensione di Johnny alla violenza però veramente vedendo la reazione di Johnny e dei suoi legali mi chiedo se non sia stata una pessima mossa non lo so vedremo non sono certa che testimonierà però questo potrebbe anche aver aperto in generale le porte a parlare di relazioni precedenti e per esempio Amber ha una una denuncia a suo carico per violenza domestica sporta dalla sua ex Tasha Von Rhee poi lei ha parlato di questo episodio dicendo che in realtà è tutto un grandissimo malinteso che in realtà c'era un poliziotto omofobo che quindi l'ha voluta arrestare anche se in realtà non era successo niente e che le accuse sono state subito fatte cadere però chi lo sa questa cosa non è mai entrata in aula ancora quindi vedremo un attimo come si svilupperà sono molto curiosa di vedere questo aspetto questa cosa come verrà affrontata comunque questo episodio delle scale si conclude con lei che dice questa è stata la prima volta e lo sottolineo più volte è stata la prima volta che io ho picchiato Johnny tutte le altre volte se l'ho fatto era per difesa invece questa volta non so neanche io come cosa mi sia preso ma gli ho tirato un pugno in faccia questa cosa già Travis ce l'aveva detto ce l'aveva raccontato del fatto che lui stava cercando di portare via Johnny e lei e fosse arrivato tipo un pugno da sinistra della faccia di Johnny e quindi lui da lì l'abbia proprio preso e portato via e si sia anche e ha detto di quanto si sia sentito in colpo per il fatto che comunque non fosse intervenuto prima aveva aspettato cioè aveva comunque assistito a lei che gli lanciava la regola addosso a lei che gli tirava qualsiasi cosa addosso e poi anche questo pugno si è sentito come se non avesse fatto il suo lavoro al meglio e dice anche che Johnny a un certo punto si è guardato allo specchio aveva insomma aveva il segno di questo pugno l'aveva guardato e gli ha detto questo è colpa tua e lui ha anche detto ed è vero perché il mio lavoro era proteggerlo invece lei sostiene che appunto questo pugno sia stata la prima volta che lei abbia usato violenza volontaria ecco verso di lui e in tutto ciò immagino che sentiremo la testimonianza della sorella quindi di Whitney immagino a supporto di questa cosa perché appunto era presente concludiamo la prima parte di testimonianza di Amber con l'episodio del 15 dicembre 2015 che io non posso non trovo altre parole per descrivere se non come un massacro quello che lei racconta è di un attacco così violento da parte di Johnny da farle pensare di morire di veramente di essere a un passo dalla morte quindi non si ricorda la ragione per cui hanno iniziato a litigare ci racconta che nuovamente lui quindi la prende per i capelli gli elitira talmente tanto da strapparle una ciocca e che poi a un certo punto la la prende dalle spalle tira indietro la tessera e tira una tessata rompendole il naso quindi lei a questo punto ha i capelli strappati ha il naso rotto la butta sul letto di faccia le tiene un ginocchio puntato alla schiena e la ricopre di pugni urlandole qualsiasi cosa urlandole di tutto cose terribili irripetibili la sua violenza è tale da rompere il letto con lo stivale consideriamo che questo letto è di legno massiccio quindi immagino la potenza che ci vada per romperne un pezzo come ci viene fatto vedere da una foto quindi ci descrive la sua faccia come tumefatta devastata naso rotto lividi un labbro rotto insomma una situazione devastante ok oltre a questo letto rotto lei non si ricorda cosa sia successo dopo si ricorda solo che poi è entrata la sua amica Rachel la sua migliore amica è entrata in camera Johnny a questo punto è sparito e quindi la trova l'amica a questo punto l'avvocato di lei fa vedere una foto ad Amber e le dice questa foto descrive accuratamente lo stato del tuo volto dopo questo evento e lei dice sì allora questa è la foto che è stata usata anche dal The Sun nel suo articolo in cui definiva Johnny Depp un wife Peter la foto sul The Sun è stata filtrata sono stati aggiunti gli occhi neri è stata modificata la cosa che a mio parere rimane ancora più assurda di tutto questo è che quella sera dopo questo avvenimento lei si è andata in diretta in un programma un late show quello di James Corden in cui posso dire che la sua faccia sembra tutto tranne che tu mi hai fatta e ora voi mi direte ci sarà chi dirà eh ma ovviamente con il trucco ok sì con il trucco puoi nascondere un occhio nero quello che non puoi nascondere è il gonfiore non puoi nascondere comunque le cose in rilievo no e lei sostiene di aver avuto un labbro rotto sostiene di aver avuto una di aver avuto il naso rotto quindi gonfiore in tutta la faccia gonfiore anche in testa insomma lividi ovunque non mi sembra troppo credibile quindi secondo la sua versione la sera dopo che ha avuto paura di morire lei si è fatta truccare e acconciare dalle sue stylist alla sua makeup artist ed è andata in diretta in questo programma in cui l'hanno ripresa molto da vicino ovviamente in super hd cioè queste potete trovarle su youtube la puntata la trovate su youtube quindi potete vederla con i vostri occhi in cui neanche ecco la cosa più evidente secondo me è il labbro no il labbro rotto perché il naso rotto io mi spiace ma non riesco a vederlo in questa foto quindi mi soffermo su quello che vedo vedo effettivamente il labbro un po' rotto morsicato spaccato con l'herpes chi lo sa comunque per chi abbia avuto il labbro in quelle condizioni sa benissimo che non c'è rossetto che tenga cioè comunque si vede si vedrà per forza perché è in rilievo quindi come anche il gonfiore che avrebbe dovuto avere da tutti i colpi che ha ricevuto e posso dire che cioè quella puntata era bellissima era perfetta nel caso vorrei avere il numero della sua make up artist perché è una maga anche di questo episodio non ci sono cartelle cliniche non c'è nessuno che l'abbia visitata non c'è nessuno che l'abbia portata in ospedale la sua migliore amica che l'ha trovata così non ha pensato di portare in ospedale di provare a curarla di portarla via no ha continuato a vivere come anche la sorella nell'attico di Johnny Depp va bene io ribadisco che se una mia amica se io trovassi una mia amica così cioè la prima cosa che farei sarebbe portarla via sarebbe andare alla polizia denunciare lui e cioè a quanto pare nessuno ha mai fatto niente perché non lo so perché avevano paura di Johnny Depp probabilmente non lo so ok siamo arrivati anche alla fine di questo video non ci posso credere fatemi sapere cosa ne pensate se avete visto la sua testimonianza cosa avete pensato per tutto il tempo e anche non so qual è la vostra opinione sulla cosa di Kate Moss verrà chiamata non verrà chiamata proviamo a fare un po' di speculazioni io posso dire con grande onestà che non non ho trovato la sua testimonianza attendibile non è corroborata da delle prove che supportino effettivamente quello che lei ha descritto abbiamo le testimonianze di altre persone che dicono il contrario quindi cioè o dobbiamo pensare stanno tutti mentendo tranne lei oppure dobbiamo pensare sta mentendo solo lei diciamo che mi viene da pensare cioè in entrambi i casi comunque la metti che stia mentendo lui o che stia mentendo lei è atroce per il semplice fatto che se sta mentendo lui e ha pagato tutte queste persone per testimoniare a suo favore e stanno tutti coprendo Johnny Depp cioè siamo nel più grande la più grande cospirazione della storia penso perché non ci sono neanche prove cioè nessuno esce fuori a dire no io l'ho vista cioè con i segni che doveva avere e col fatto che lei è un'attrice e quindi viene continuamente messa sotto i riflettori i paparazzi le inseguono eccetera che nessuno abbia mai visto un segno sul suo viso sembra assurdo sul viso di lui invece più volte si vedono foto di lui con qualche segno qua l'alnas un pochino rotto da una volta che lei le avrebbe tirato un barattolo in faccia o il dito rotto insomma il dito tagliato eccetera dicevo le prove sono veramente deboli e mi dispiace dirlo perché perché non voglio di nuovo non voglio che si pensi che per dimostrare di aver subito violenze bisogna avere delle prove schiaccianti però quello che dico è se hai avuto il tempo di fotografare la lampada rotta il letto rotto e tante cose tutte rotte cioè poi la foto che ti sei fatta mi fa dire boh cioè nel senso non mi sembra la foto di una persona che è stata massacrata di botta per concludere io non sono sicura che Johnny vinca onestamente perché bisogna anche pensare che la giuria non ha tutti gli elementi che noi abbiamo al di fuori quindi appunto chi va ad analizzare ogni singola cosa che lei dice che va a zoomare sulle foto e poi magari trova le foto del giorno dopo perché ecco io sto vedendo un sacco di video che mi fanno vedere che magari il giorno dopo una sua uno degli episodi in cui le hai raccontato il giorno dopo lei è in giro che ride scherza e sta benissimo non ha segni in faccia no? però la giuria non ha in mano queste foto la giuria ha in mano le prove che vengono portate in aula quindi per questo dico non sono certa che Johnny vinca sicuramente il suo obiettivo non sono i soldi perché ne ha fin troppi quindi non penso che lo faccia per quello lui voleva riabilitare il suo nome con l'opinione pubblica e penso che l'abbia fatto quindi sicuramente da quel punto di vista comunque ha vinto nella fattispecial proprio nella nella causa non sono così certa ma vedremo fatemi sapere voi cosa ne pensate se siete arrivati a questo punto di video commentate con con l'emoji di un cuore seminiamo un po' di amore sotto questo video che veramente cioè ogni volta che li devo registrare comunque mi sento male ormai cioè perché comunque sono argomenti pesanti e cerco di affrontarli con un po' di leggerezza perché se no cioè se no è veramente dura e quindi spero di farlo veramente al meglio e noi ci vediamo nel prossimo video peace out un po' di leggerezza un po' di leggerezza